La cessione di Alessandro Sorrentino al Monza apre di fatto anche dal punto di vista economico il mercato del Pescara perché quella con i Brianzoli diventa un'operazione maxi considerando che in riva l'Adriatico arrivano tre elementi che potranno essere determinati nel prossimo scacchiere di Alberto Colombo. Sorrentino passa a titolo definitivo in bianco-rosso e percorso inverso fanno Daniele Sommariva, portiere che prenderà il posto dello stesso ormai ex numero uno Biancazzurro, i centrocampisti Lombardi e Siatunis. Quest'ultimo però lo farà con la formula del prestito mentre gli altri due saranno a titolo definitivo. Peraltro tra i pali oltre a Sorrentino altra partenza, stavolta per decadenza di contratto, quella di Alessandro Iacobucci al Sud Tirol, già estremo difensore bianco-rosso nella stagione 2011-2012. Iacobucci si è legato al club con un contratto annuale mentre sempre alla corte di Lamberto Zauli in Serie B arriva un altro ex bianco-azzurro come Marco Pompetti in prestito dall'Inter dove era rientrato dopo l'esperienza a Pescara dello scorso campionato. Tornando invece all'operazione in entrata del delfino Sesson Mariva, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, andrà a difendere i pali della porta Lombardi, un jolly di centrocampo che già ha avuto un'esperienza breve in Abruzzo a Teramo nella seconda parte della stagione 2020-2021. Per lui solo pochi minuti nello scampolo finale di quel torneo contro Avellino e Viterbese prima dell'acquisto da parte del Monza e relativo prestito alla Vispesaro. Profilo giovane quello di Lombardi, classe 2002 ma di grande prospettiva. Persia Tunis, mediano greco stessa età di Lombardi. La Lega Pro può rappresentare un trampolino di lancio perché in Serie B ha trovato spazio quasi nullo, 22 minuti con il Monza, adesso la possibilità di lanciarsi facendo un passo indietro dal punto di vista della categoria. Il Pescara dunque incassa denaro fresco e porta a casa tre pedine che potranno risultare utili. Cessione redditizia anche quella di Edgar Elisalde, 700 mila euro, poco meno per il trasferimento all'independiente dopo l'esperienza in Patria al Pegnarol. L'uruguaiano era da tempo ormai fuori dai progetti biancazzurri e la sua partenza consente di incassare altra liquidità. Poi ci sono gli scambi sull'asse doppio, Chiavari-Padova. Con la Virtus Entella a scambio tra Lescano e Clemenza, l'attaccante argentino arriva in Abruzzo, il fantasista va in Liguria. Dunque la prima linea del Delfino continua ad essere a tinte sudamericane. Mentre con i biancoscudati manca ancora qualcosa per chiudere un altro scambio, ovvero quello che porterà De Marchi in bianco-rosso e della latta in casa del Delfino. Centrocampista di assoluta esperienza per la categoria della latta, titolarissimo nella prima parte della stagione in Maglia-Padova, qualche spazio in meno nella seconda. Giovani e pedine più esperte dunque, il nuovo corso del Pescara è già iniziato. Grazie. Grazie.